Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui, ragazzi, su FIFA 17 La rivincita Della sconfitta, subita Contro Raffaele Ragazzi, il video è dello stesso giorno Come vedrete dai nostri Il duende Non è che non ci cambiamo Quindi ragazzi Vi faccio un attimo modificare le mie impostazioni Ma vedi che bastiamo più personalizzati La mamma mi vuole Comunque ragazzi La scorsa partita mandata è qui Da 1-0 per lui, Chelsea, Manchester City Quindi ora Io vado a scegliere il Real Madrid Tu mi chiesti a me Sono in decine Voglio cambiare Voglio cambiare Mettiamo il Manchester United, dai ci proviamo Ora ragazzi facciamo la formazione Lo stagio di controllo L'agenda Dai lascio così Ok Siamo per la squadra Vediamo i moduli Sì va bene così Sì va bene così Diciamo lo va bene così Ok ragazzi Dicissimo Sto saltando mi picchia pure Numero di vanni a compagno al fumo Attenzione Attenzione che è buona Vai che è buona Vai che è buona Ecco iniziamo con i primi interventi No Andere Vai che è buona Ok così Vai Marcial Vai Marcial 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 La fita di Marcial Sì va bene così Sì va bene così Sì va bene così No Vai No Aspetta No Che cosa Sì attiva Infortunato guardalo guarda lune guarda lune è buona così perché è buona no merda di lune non merda di lune è sbagliato guarda lui con il suo schifo si è fermato perfettamente bene così finta di martialo tienilo tienilo è scappato è scappato è scappato è scappato mamma mia perché c'è la carattolo stanno imparatelo sparatelo non è bello no merda 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 07 merda dai 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 veloce veloce che dobbiamo ripartire veloce cambia tutto per marchio dai bravino dici non ho sbagliato ragazzo perché vuole così felicitata felicitata dai di fisico che ci sei dai di fisico che ci si trova fisico che ramos non si passa va bene non è stato più di fisico vai vai guarda poco fa guarda poco fa guarda poco fa dappure non me lo ricordo così veloce poco fa quando a me andava andero ne fa assolutamente nooo si è fatto male bravi lui si è fatto male bravi lui speriamo di no dai che posso dire quattiva vai così vai vai rune vai rune vai rune si blocca rune attaccione ancora lui rune rune nooo non so più che cazzo devo fare valencia la mette in mezzo non ho visto già rune non so perché grande così grande così grande così grande così bello stavo passata ammattiamo madonna mia ronaldo 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 no 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 ti prego è tutto come si è fatto un gol perché sbagliare qui stiamo andando da quella posizione grande vai asciutto vai asciutto che è più bello lento vai asciutto non è lento non è lento non è lento è lento ma che buona minchia però tutti i rimpalli vinci oh grande che usci vai ma che buona ma che lo prendi ronaldo sto cazzo fatti perdonare fatti perdonare fatti perdonare sto cazzo buono 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 il tariff si è fatto male brutto segno ragazzi però c'è il giovane rush ford che farà sentire la mancanza di prime rich eccolo subito rush ford che lo salta vai rush ford vai rush ford primo tempo zero a zero bella partita pochi tiri però ragazzi diciamo che la mettiamo giudato il centro che stiamo ancora possibendo diciamo che l'unica azione pericolosa aveva avuto lui non è fallo non è fallo non è fallo non era fallo attacchiamoli attacchiamoli che ce la prendiamo va bene così da ma guarda che c***o vedi che c***o dai occhio no no meno male che non l'hai visto meno male che non l'hai visto ma guarda che c***o fanno che c***o che c***o e che ripartiamo che ripartiamo quanto marcia porta marcia guarda ma c***o vai marchio non ci sei tu vai marchio però non puoi vedere se la riuscite una sicurezza ma anche come c***o le messe a me guarda che c***o dalla lunga bing che la prende o me la dame male vai bing vai bing vai gareth vai gareth no no meno male meno male c***o l'angolo per gli armati occhio che la con mettere in mezzo bambini non rischiare, guardalo vai Valencia, ottimo coici Valencia vai, vai che buona Rashford mamma mia, stanno stanno vai che buona vai Provisi Rashford peccato l'ha frica male l'ha frica male calma così ok così vai vai no vai che ci siamo vai che ci siamo vai vai Rashford no mi stia in porta cosa ha sbagliato cosa ha sbagliato tira buona il tiro vai che è ancora lui dai dai che ora è un assedio no merda non mi stavo giro dai che è buona dai che possiamo andare affanculo dobbiamo andare no si arroni si non è fuori gioco non lo puoi sbagliare questa volta dai che ne sbagliato ne sbagliato pure sta volta l'hai sbagliato noi ma è buona no mio dio non mi chiede sbagliare due collo vai vai Rune ti prego ti prego lentigginoso ti prego vai Rune vai Rune te ne va ma ne va fallo fallo ragazzi questa è una posizione vediamo ci voglio provare ci voglio provare ma vabbè non pare bastardo tu che metti si lo faccio lo faccio lo faccio e si è bastardo però di sinistri non giro nessuno tutta una liva proviamoci ragazzi è difficilissima uuuuuh ti prego sempre lui è un animale è un muro vai che bebe un cacchio cacchio è bebe ti prego eh cazzo dobbiamo bucare all'ultimo ragazzi mi sa che stavamo supplementari no rigori facciamo rigori sembra sei ci su va bene ragazzi facciamo calci di rigore rigori perché sennò mi esce troppo lungo ragazzi bella partita comunque si a chi più in 40 ragazzi non mi sappiamo se si è bloccato il video non ce ne siamo ancora no guarda guarda si ebbè merda non ho levato più dai che ce lo pariamo dai che ce lo pariamo coglione schiacciato il r3 si vedeva la freccietta sotto se tu schiacci questo vabbè mamma non me lo fa non so perché comunque si vedeva la freccietta sotto guarda 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 nooo stai sbagliando l'ultimo andiamo rushport palo rete palo rete rushport ma che c'è 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 mamma mia che gol si vedeva il chitariano all'argomino non la potevo prendere ah è sbagliato ha sbagliato attenzione 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 marciano si vedeva marciallo e vince pure la riduscita è troppo forte nulla potevo davamo pari supplementari diciamo che tu mi hai parato il rigore che hai visto vabbè 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 ma io sono stato più furbo diciamo vabbè comunque vabbè due vittorie buona l'importante è che ci siamo divertiti l'importante è quello come quell'altro video mi siamo divertiti anche in questo video bellissime partite ecco ragazzi per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto come sempre invito a lasciare un like commentare e condivide sotto nella pagina in descrizione vi lascio il cioè nel link in descrizione vi lascio la pagina facebook mi raccomando se non siete iscritti al canale iscrivetevi bene ragazzi noi ci vediamo al prossimo video bella